Parvati voleva disperatamente sposare Shiva, quindi ingaggiò un aiuto. Il dio di Kama, Kamadeva, è il cupido originale. Di solito cupido ti rende piuttosto stupido. Quindi si nascose dietro un albero e scoccò una frecciafiore a Shiva. La frecciafiore lo colpì e lui aprì gli occhi dal suo stato meditativo e questa bella Parvati era seduta lì. Immediatamente qualcosa si risvegliò dentro di lui e sentì desiderio di lei. Quindi si infuriò. Chi mi ha fatto questo? E guardò Kama. Stava guardando da dietro un albero il suo successo. Quindi disse, idiota, hai disturbato la mia sadhana e hai messo questo desiderio dentro di me. E aprì il suo terzo occhio e lo ridusse in cenere. Devi capire, qualsiasi tipo di desiderio, di lussuria, non sorge dall'esterno, ma dall'interno. Quindi che Shiva ridusse Kama in cenere significa non che guardò qualcuno che era dietro un albero e lo bruciò. Quando vide il desiderio sorgere dentro di sé, aprì il suo terzo occhio. Il terzo occhio è un occhio rivolto all'interno, non un occhio rivolto all'esterno. Questi due occhi sono sufficienti per vedere il mondo. Questi due occhi possono cogliere ogni cosa che è fisica. Ora puoi vedere qualcosa che non è di natura fisica. L'unico modo di guardare è l'interno. Quindi, se hai un occhio che puoi guardare all'interno, quello è il terzo occhio. Non un appendice extra o un'apertura sulla fronte. Il terzo occhio si riferisce a una dimensione interiore. Due occhi per vedere il fisico. Per vedere il non fisico c'è un altro occhio, che ha un occhio rivolto all'interno. Perché stanno parlando della fronte? Perché è lì che è localizzato il chakra agna. Questo è il chakra fra le sopracciglia, che è una visione interiore, poiché è tutta questione di rivolgersi all'interno. Grazie a tutti.